Dudu, sette gol, una partita incredibile. Adesso sei capo cannoniere, sensazioni? Bellissimi, giocare qua, la prima volta che gioco qui questi tornei, no? L'Italia, è stato bellissimo, perché è tranquillo, si vede i ragazzi sono bravi, sono tutti bravi persone, faccio più, faccio nuovi amici, no? Qui è fantastico. Capo cannoniere quest'anno vince un prosciutto, mezzo te lo sei messo in tasca praticamente. Il primo premio come capo cannoniere, speriamo bene. Vengono due partite e poi è fatto. Grazie. Grazie a voi raga, complimenti per il torneio. Grazie mille. Prego.